Ok, bello a tutti ragazzi, io sono il Filosofi, vi ringrazio in questi giorni per il gran supporto che avete dato al video che ho fatto appunto quello di raggiungere 500 like. È il 3 settembre, mancano ancora 27 giorni per la fine della challenge, quindi siamo a 284 like, quindi è probabile che forse ci arriva a 500 like e mi tocca guardare tutto One Piece. E mi manca veramente, manca meno della metà dei like. Quindi vi invito a mettere like, magari vi metto il link in descrizione del video. Detto questo, questa è una recensione di Mashal. Ho qui un secondo telefono dove ho scritto degli appunti di Mashal perché Mashal l'ho visto tutte e due le stagioni diciamo in poco tempo e quindi devo... C'è poco tempo e diciamo in un po' di tempo fa, quindi mi devo ricordare qualcosa e c'ho un po' di appunti da leggere, da discutere insomma perché l'ho presi apposta perché non sapevo quando facevo questo video. Allora, partiamo un po' dal world building. Il world building di Mashal sono 24 episodi che continuerà come serie e secondo me questo mondo non è stato costruito in modo buono perché tutto così rarefatto ci mostrano poco l'esterno, tutte le scene si sono svolte in questa scuola, c'è questa storia diciamo di Innocence Zero, di questa società che è poco poco approfondita. Ci viene soltanto detto che quelli senza potere non vanno bene, non sono buoni e infatti c'è proprio all'inizio il fatto che quando Mashal esce da casa e dopo che praticamente suo nonno adottivo gli aveva detto di non uscire, farò tutti i spoiler ovviamente in questo video, e lui esce, viene catturato, cioè si tentano di catturarlo, poi chiaramente quello scontro con quel tizio biondo, insomma poliziotto biondo, insomma. Si provano a spiegare questo world, come è fatto questo world, questo mondo, ma in realtà veramente poca roba, deludente, si è ambientato tutti in questa scuola di magia, poi questo motivo veramente insulso da parte di questo tizio biondo di mandare, che prima vuole ammazzare questo tizio che non ha magia, poi si rende conto che è molto forte, lo manda in questa scuola di magia per farlo diventare, mi pare, leggente divino, una cosa del genere. Vabbè, l'equivalente quasi di imperatore magico, di black clover, solamente di leggente divino ce ne sono di più. Questa scuola di magia sono tutti rincoglioniti, tutti quanti coglioni, non si accorgono mai che sto martial durante le prove non ha poteri, quando poi la cosa è chiara che non ha poteri questo qui, ed è anche molto stupido come persona, però vabbè, ovviamente non caricaturale, ovviamente un personaggio così. E poi chiaramente c'è la scena dove praticamente Marshall salva Lemon, la tizia molto fastidiosa di questo anime, che ha un grosso problema con i personaggi femminili, poi ne parlerò un pochettino dopo, che prende questo pugno da una saccagnata a questo mostro, salva questa Lemon, Lemon se ne innamora ed è un dito in culo per tutta la fottuta serie. E vabbè, a parte la plot armor, diciamo, del protagonista, ci sono tante copie, forti copie, insomma, di altri anime, di altri franchise all'interno di questa opera, per esempio c'è il Quiddick di Harry Potter, la stessa scuola di magia, poi tutti i personaggi qua in quest'anime non si capisce tutti quanti scontrosi, vogliono tutti quanti picchiarsi, questo personaggio che c'è una plot armor assurda, perché nonostante dovesse essere già stato espulso più volte dalla scuola, perché ha picchiato, perché è stato bullizzato dal tizio che è il figlio del vicepreside, di sto cazzo che aveva favoritismi dal vicepreside, lo picchia, lo butta a suo vicepreside seppellito vivo, c'è una roba assurda, il preside dice no, no, ma tutta po', è come se il preside simpatizzasse per lui, ma per un motivo o nell'altro, non si capisce, però alla fine c'è una plot armor clamorosa, scontri, botte da orbi, diciamo che sono molto dimenticabili, questi sono i primi 6-7 episodi dove non succede praticamente nulla, dove si ripete lo stesso schema, dove tutto è noioso ed è assolutamente stupido da vedere, dall'ottavo non episodio in poi, settimo episodio in poi, cominciano a presentarti almeno in modo abbastanza coerente, buono, diciamo, la vita in questo liceo, dove c'è comunque questa associazione dei lupus che raccoglie, vuole raccogliere, diciamo, le monete, le medaglie d'oro lì, perché vogliono essere i capi di diventare imperatori, i magici, la cos'è, vabbè, i due genti divini, perché non devono diventare gli altri, tutta una serie di cose, questo capo di magia lupus che sembra essere cattivo a caso, poi più o meno c'ha una sua valenza, diciamo, un suo modo di agire che posso accettare, almeno nella seconda parte comunque si evolve un po' la situazione, perché questo cattivo agisce perché hanno ucciso la madre che aiutava sempre i deboli, allora lui vuole mandare a fanculo tutte le persone deboli e vuole che governino i più forti perché questa madre è stata uccisa da un avido, da una persona debole, un poveraccio che però era molto avido e voleva più cibo, insomma, come le solite cose, però mi era gradito anche un po' gli scontri che c'erano in questa seconda parte della prima stagione, mi erano graditi, poi la cosa è finita lì, come sempre con i Deus Ex Machina, diciamo, di questo personaggio, ma anche il rapporto tra Abyss e Abel, comunque non era male in questo anime, diciamo, tra il cattivo principale e il braccio destro del cattivo, quindi questi due personaggi comunque avevano un bel rapporto, questo fatto anche che comunque alla fine questo cattivo, anche se disprezzava i più deboli, in un certo senso aiutava una persona più debole perché questo mi pare che fosse bisproprio, aveva di tutto un occhio particolare chiamato l'occhio del demone, i genitori volevano ucciderlo, però diciamo che Abel, che è il cattivo principale, Abel lo prende sotto la sua era protettiva, è una cosa molto interessante, molto carina, devo dire la verità molto carina, e nella seconda parte diciamo che l'anime si rifà molto, si rifà molto, propone qualcosa che magari non è originale al massimo, perché comunque rimane una copia di My Hero Academia, di Black Clover, soprattutto di Harry Potter, e comunque c'è la prima parte molto molto macchinosa e noiosa, in no sense, però almeno qualcosa c'è, qualcosa viene costruito. Poi diciamo che la seconda stagione per me è un po' un casino, nel senso che ci sono tutti questi personaggi che vengono introdotti, viene visto per la prima volta questo Innocent Zero, che è una figura misteriosa, poi ti viene spiegata in modo abbastanza approfondito, è abbastanza convincente dal preside Wahlberg, come si chiama, quello della scuola, che praticamente fa favoritismi a mascio per tutto l'anime, personaggi con il tizio dimenticabilissimi che usa la magia delle note omosessuali, penso sia omosessuali sicuramente, e basta, c'è una seconda stagione un po' deludente, perché tutto si svolge in modo veloce, troppi personaggi, troppa roba comunque che non ha senso, a parte la soluzione appunto di quando Lance è il tizio di capelli blu e il tizio di capelli rossi, che non mi ricordo mai come si chiama, però è uno dei miei preferiti in questo anime, anche se fanno tutti cagare come personaggi, però tranne forse il preside che è decente, tranne l'altro personaggio, quello lì appunto, che gli hanno coltellato la madre e il cattivo della prima stagione, che quantomeno qualcosa hanno provato a raccontare, e anche l'altro personaggio che stava insieme, Abyss mi pare, sì, Abyss e Abel, tutte e due, insomma, non sono male neanche il preside Wohlberg, è male, poi vabbè, monnezza, per ora monnezza come cattivo l'altro Innocent Zero, e niente, per il resto, quella soluzione lì dove Lance e il tizio di capelli rossi venivano trasformati in bebè, e poi usavano quella soluzione che Lance utilizzava, la magia gravitazionale su una piccola parte del corpo, poi la concentrava e comunque abbatteva il suo nemico, togliendo quella magia che le aveva trasformati in bebè, cioè rendendole inefficace, perché praticamente aveva reso incosciente il suo utilizzatore, bellissima soluzione, quella lì mi è piaciuta veramente tanto, molto originale, e anche sensata, per il resto poi lo scontro incredibile tra il preside Wohlberg e Innocent Zero, Innocent Zero che fa il culo a tutti quanti, diventa un'arma di istruzione di massa, questo Wohlberg che praticamente non ha il braccio, non si muove più, non può fare più niente, ha perso tutto il potere magico, nonostante gli abbia fatto, gli potrebbe potenzialmente fare un culo così a Innocent Zero, però Innocent Zero usa tipo la magia del tempo, i salcazzi, però poi Innocent Zero quando arriva Mash, non se ne accorge, Mash gli dia un pugno, gli distrugge quasi la faccia, anche se poi si ricompone, perché chiaramente Innocent Zero, non si è capito nemmeno che cazzo gli poteri ha, perché boh, veramente è un assurdo, e poi bello il fatto che comunque Innocent Zero e il preside del collegio abbiano questo destino intrecciato, gli allievi di uno stesso maestro, molto caritatevole, cioè questo tema continuo dell'aiuto delle persone in difficoltà, che si sente in modo molto forte, soprattutto con il preside Wohlberg, quando viene Wahlberg, come cazzo si chiama, che viene salvato da questa persona, che poi diventa maestro anche di Innocent Zero, solo che Innocent Zero sceglie la classica cosa della strada del mare, il preside sceglie la classica cosa della strada del bene, insomma questi due, diciamo questa è una costruzione comunque base, però comunque interessante, che comunque tantomeno almeno cerca di costruire una storia che abbia una coerenza, infatti c'è abbastanza coerenza, ma comunque è tutto così veloce, è tutto così aleatorio, poi nell'ultimo episodio, penultimo episodio più o meno, quando Innocent Zero ha dei problemi, tipo così, nel senso che si blocca, aveva assorbito troppo potere, fa tipo in tilt, anche se comunque era più forte di Dimash, del mago Merlino, chiamava così Valberg, come si chiama, perché gli aveva comunque assorbito il potere, si ritira, si ritira così, in modo abbastanza boh, tipo dici boh, perché si è ritirato questo, per allungare il proto, chiaro, chiaro, perché comunque poteva comunque batterli, anche se aveva dei problemini, perché si doveva poi, c'è il stesso da lui, ovviamente nell'anime, si doveva adeguare al potere, il nuovo potere, comunque, ritornando all'ultimo argomento, di questo anime, il trattamento, come vengono scritte, questo anime, le donne, se ci sono tante donne, poche donne, questo anime, allora io non ho mai visto un anime, dove effettivamente le donne, avessero un rilievo, così, così, veramente, forte, sui film metal alchemist, in Proviset Neverland, dove c'era comunque questo peso, mi ha dato comunque questo peso, alle donne, perché magari, soprattutto, in Fullmetal Alchemist, l'autore è una donna, manco in My Hero Academia, si dà così poco peso alle donne, anzi, hanno abbastanza peso le donne in My Hero Academia, forse, beh, in anime, tipo Naruto, Dragon Ball, hanno un peso molto minore, ed è ovvio, tranne un po' Bulba, che comunque, ha, insomma, è un personaggio comunque molto forte, Bulba in realtà, perché è ricca, ok che non combatte, però, ha le imprese, è super scienziata, è ricca, mantiene il marito, quindi comunque, è un personaggio molto molto forte, anche se magari, non è proprio una protagonista, però è una dei protagonisti comunque, qui, di donne, non ne contate due, due, e fanno pure schifo, una con i capelli rosa, che è la scagnozza, di turno del cattivone, che non fa un cazzo, non serve a niente, Lemon, che rompe i coglioni, che non serve a niente, fa solo un discorso verso la fine della seconda stagione, ma che, quando scoprono che Mush non ha i poteri, e se tutti quanti, si rompono il cazzo, perché questo non ha i poteri, non può stare nell'accademia di Magia, che poi in realtà è pure giusto, però, questo ha fatto il discorso, basta, cioè, veramente una merda, tutti i personaggi sono, tutti i personaggi sono maschi, non c'è un personaggio femminile, almeno simpatico, almeno scritto in modo decente, almeno, che, sia almeno un protagonista decisivo, decisivo, perché pure, perché pure Lemon non fa un cazzo, quella nizia di capelli rosa non fa niente, ma c'è un altro personaggio dimenticabilissimo, femminile, che pure è negativo, cioè, è una roba, che sinceramente a me non piace, perché io non dico che tutti i personaggi femminili devono essere forti, tutti i personaggi femminili devono essere protagonisti, devono essere, effettivamente, dei grandi personaggi, perché ci sta che magari mi fai il personaggio femminile maschile, coglione, tutte e due, va bene, e anche magari il personaggio femminile sbampito, non mi faccio una risata, però non puoi farmi tutti i personaggi, due o tre personaggi, e me li fai tutti quanti così, i femminili, cioè, no, è una merda, porca puttana, no, è una merda, ma che cazzo significa, scusa, ma togli un personaggio maschile, e mi fai un personaggio femminile, un pochettino meglio, dico tanto, perché fa schifo ragazzi, è brutto, non ha senso nemmeno, per il resto, me lo so guto abbastanza questo anime, non è che sia brutto, però la prima parte è da bocciare, per il resto, a parte qualche problema di ritmo, qualche episodio, le soluzioni delle battaglie, non erano pure male, però è una storia che alla fine, non ha nulla di eccezionale, nulla, assolutamente nulla, perché è un miscuglio di altra roba, di originale, e questa è la mia recensione, vi invito a mettere like, è bella.